Opla! Ciao bimbi! Anche oggi io e Cefalu vorremmo proporvi dei giochini da fare insieme. Ne avete palline a casa? Se non le avete potrete realizzarle con della carta. Gioco 1. Servono palline, bicchieri e un tavolo in pendenza. Per inclinare il tavolo potrete mettere dei libri sotto due delle quattro gambe. Dovrete riuscire a prendere con il bicchiere le palline che scorrono sul tavolo. I più piccolini possono usare un contenitore. Anche questo è un gioco di abilità. Dovrete prendere con il bicchiere le palline che vi vengono lanciate. E adesso è ora di una sfida. Cucchiaio in bocca, cammino in equilibrio sulla corda. Si possono fare anche i dispetti. Per l'ultimo giochino servono palline e tanti contenitori. Vediamo chi è il più preciso a fare canestro. Buon divertimento bimbi, ci vediamo la prossima settimana.